Clamorosa rapina nel centro commerciale extense lungo la padana inferiore, bottino quasi 30.000 euro. Tre uomini, col volto coperto e armati, hanno raggiunto un negozio all'interno della struttura nella bassa padovana e minacciando la commessa si sono fatti consegnare oggetti in oro per un valore di circa 25.000 euro, oltre all'incasso pari a circa 4.000 euro. L'assalto è avvenuto poco dopo le 19, secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri a corsi sul posto. I tre impugnavano fucili e una pistola. Al momento sarebbero stati presenti sei clienti e una commessa, tutti minacciati dai banditi, che hanno tirato fuori dei sacchi, passando dietro al bancone e facendosi consegnare soldi e oggetti in oro. Dopo alcuni interminabili minuti, i tre sono fuggiti da un'uscita secondaria e saliti a bordo di un'auto condotta da un complice che aspettava all'esterno. Molte le persone presenti in quel momento nel centro commerciale, anche se praticamente nessuno si è accorto di quanto stava accadendo, è la testimonianza dell'amministratore delegato Luca Rossi. Un colpo molto veloce, si parla di tre minuti in tutto, e secondo i primi riscontri dei carabinieri, i tre parlavano italiano, anche se non è ancora stato accertato con quale inflessione. Mentre l'auto, con la quale sono fuggiti, una BMW rubata alcuni giorni fa in provincia di Treviso, è stata ritrovata nella notte, bruciata a Ponte San Nicolò, mentre la targa era stata smontata da un'auto nel Padovano. Al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e le testimonianze dei clienti e della commessa.